Con una doppietta di paudice il Giulianova espugna il campo dell'atletico Terme-Fiugi riducendo le distanze dal quart'ultimo posto e sfoderando una prova di grande sostanza che lascia ben sperare per il lungo rush finale del torneo. In terra lasiale i giallorossi hanno offerto una prova positiva dimostrando di essere più vivi che mai. Bitetto allo stadio, capo Iprati, recupera Demoleone in difesa ma deve fare a meno di modi, c'è caso. Giallorossi in campo con il 3-5-2, all'ottavo minuto Brivido in area abruzzese con il pallone colpito da Forgione sugli sviluppi di un angolo che termina di un soffio a lato dopo aver lambito il palo esterno. Al decimo ospiti però in vantaggio al primo affondo con il gol di paudice che in contropiede con un tiro a giro mette la palla alle spalle di nuovi. Atletico Terme-Fiugi 0, Giulianova 1 con i giallorossi galvanizzati dal fulminio vantaggio e che rispondono colpo su colpo ai locali di mister Incocciati. A fare la partita è però la formazione di casa che colleziona diversi angoli di fila crescendo con il trascorrere dei minuti. Al ventiquattresimo proprio su corner di Basilico parabola a Beffarda del pallone che finisce sul palo di destra della porta difesa da Mora. Al ventiseiesimo ancora pericoloso il Fiuggi con Gaetani che in area conclude alto. Soffre in questo frangente di gara l'undici giallorosso con il laziale del Duca che al trentaduesimo di testa mette alto. Si arriva così nell'ultima parte di prima frazione con i padroni di casa in costante proiezione offensiva e con del Duca ancora impreciso al trentacinquesimo con la sua incornata in area fuori dallo specchio. Ma in agguato c'è ancora il Giulianova e sempre con Paudice che al quarantaquattresimo servito alla perfezione davanti a Novi non sbaglia segnando il gol del 2-0 per il Giulianova con cui si chiude il primo tempo. Nella ripresa al decimo Giulianova vicino al Tris con il colpo di testa ancora dello scatenato Paudice che sotto misura mette di poco alto. Sciupa in questo avvio di seconda frazione la squadra ospite con ancora Paudice al tredicesimo che manda il pallone a mezzo palmo dalla traversa della formazione di casa. C'è così ancora da soffrire con le proteste locali al quattordicesimo quando Forgione cade in area abruzzese dopo un contatto e con il direttore di gara che fa proseguire con ampi gesti proteste da parte dei giocatori delle fiuggi ma il direttore di gara è irremovibile. Il match resta palpitante aperto anche se rispetto al primo tempo il fiugio è meno incisivo e alla mezz'ora la formazione laziale resta anche in 10 per il secondo giallo sventolato Rizzitelli che è così costretto a lasciare anzitempo il terreno di gioco. Padroni di casa in inferiorità numerica e che perdono così anche certezze non riuscendo fino al termine a creare altri problemi alla formazione di Bitetto che tiene senza problemi portando a casa una vittoria di inestimabile valore. È stata una partita diciamo tutta dalla nostra dopo il nostro vantaggio loro hanno avuto delle possibilità sul palle da fermo però per il resto credo che ci siamo sia difesi bene poi per come magari sapevamo già di poter fare visto le nostre qualità offensive e poi quando siamo ripartiti eravamo sempre molto molto pericolosi. Una vittoria importante perché oggi si affrontavano la quart'ultima e la terza ultima in classifica il Fiuggi dovrà recuperare più partite, ne parlavamo anche prima con il Presidente però avete comunque ridotto in qualche modo le distanze dal quarto ultimo posto ci sono tanti recuperi, tante partite ancora da giocare ma direi che la notizia che arriva da Fiuggi è quella di un Giulianova più che mai vivo. Lo è sempre stato in quest'ultimo periodo, lo ha sempre dimostrato anche domenica pur perdendo a Rieti noi oggi più che vincere non potevamo, più che fare tre punti non potevamo indipendentemente dalle altre partite, indipendentemente anche dalla classifica perché purtroppo quest'anno è una classifica virtuale. Per gli allenatori è importante, l'ho sempre detto, è importante sì cercare assieme alla squadra e di raggiungere l'obiettivo, però l'altro obiettivo che si propone l'allenatore è anche quello di far crescere le individualità della sua squadra. La nostra è una squadra, lo vedete, sempre molto giovane, giochiamo sempre con 7-8 under sin dall'inizio e ci sono degli under come i due davanti, Paudice e Barlafante che riescono sempre anche in questa partita a fare la differenza. Un'occasione persa per noi perché comunque venivamo da un buon periodo anche per quello che riguarda la prestazione che comunque in parte c'è stata però nella gestione proprio della gara non siamo stati così attenti abbiamo permesso alcune ripartenze micidiali, questo sta a significare che non abbiamo preparato o quantomeno io non sono stato così bravo a preparare i miei ragazzi a questo importante appuntamento abbiamo fallito e ce ne rendiamo conto, siamo amareggiati tutti ma questo momento in cui a rompere definitivamente ci vuole poco invece bisogna essere bravi a rimettere in ordine i cocci e pensare alla prossima partita perché ancora mancano 12 partite delle quali molte le faremo qui a casa e quindi con le dovute maniere dobbiamo essere il più possibile tranquilli per cercare di ritrovare un po' quello che abbiamo perso oggi abbiamo fatto qualche passo indietro, analizzeremo domani e vedremo il da farsi vedremo dove fare in modo che queste gare non siano più ripetibili Sì, oggi siamo molto soddisfatti della prestazione della nostra squadra abbiamo recuperato un giocatore fondamentale per la difesa, qual è Demo Leone e nel secondo tempo lo si è visto quando la squadra avversaria lanciava la palla in lungo, alta e le ha prese tutte di testa lui quello che nelle ultime partite purtroppo ci è mancato nei calci piazzati abbiamo pareggiato o perso qualche partita per queste problematiche abbiamo ancora Patrizio Caso fuori, lo recupereremo alla prossima partita e quindi potremo finalmente giocare con tutta la rosa a disposizione e sono sicuro che quando avremo tutti i calciatori a disposizione il Giulianova di punti ne farà parecchi da qui alla fine Questa era una partita importante Presidente della vigilia perché si affrontavano la quart'ultima e la terza ultima il Fiuggi dovrà recuperare più partite del Giulianova però vengono ridotte comunque le distanze dal quart'ultimo posto il campionato è ancora lungo e la squadra ha dimostrato di essere più che mai viva Presidente Sì, la squadra è viva noi lotteremo fino all'ultima partita per mantenere la categoria poi il campo darà il suo risultato il Giulianova ha sperperato punti su punti in diverse partite è stato anche sfortunato posso pensare alla partita di Recanati quando all'ultimo minuto abbiamo preso un gol su un'azione di rugby più che di calcio oltre a quella ne abbiamo avuto Genzano quando abbiamo preso il palo al 94esimo quindi abbiamo perso tanti punti però la squadra gioca non è mai doma i ragazzi ce la mettono tutta abbiamo delle ottime individualità e i ragazzi più giovani stanno emergendo e oggi non posso non fare un plauso a Paudice e a De Cerchio che hanno fatto una partita incredibile sono due ragazzi giovani che sicuramente avranno un futuro rosio anche secondo me nel calcio professionistico